Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione flash del sabato di occhio alla notizia. Gli operatori della Croce Rossa sono pronti ad imbarcarsi sulle motovedette della Guardia Costiera di Pesaro per partecipare ad operazioni di soccorso e salvataggio dei bagnanti durante la stagione estiva. E' quello che accadrà l'estate prossima lungo le spiagge di Gabicemare, Pesaro, Fano e Marotta, grazie ad un accordo siglato oggi dal comandante della Capitaneria di Porto, Angelo Capuzzimato, ed il presidente del Comitato Locale della Croce Rossa italiana, Claudio Frulli. L'accordo, che rientra in un'intesa nazionale, prevede attività congiunte di soccorso in mare e addestramento. In particolare, soprattutto nei fini settimana, gli operatori della Croce Rossa saranno in stato di preallerta pronti ad imbarcarsi sui mezzi navali della Guardia Costiera. E adesso parliamo delle prossime elezioni regionali, perché Gian Mario Spacca, l'attuale presidente, ha annunciato la sua candidatura per il terzo mandato e non sono mancate le reazioni. La prima, quella di Giancarlo Danna, del gruppo misto. Oggi il presidente Spacca, ha detto Danna, diventa il punto di riferimento di quello che una volta veniva chiamato centrodestra, pur conservando il ruolo di presidente di una coalizione di centrosinistra. Se nelle segrete stanze ci fosse chi ha pianificato questo percorso che punta a demolire definitivamente il centrodestra, prima e dopo le elezioni gli va riconosciuto di essere sulla buona strada. A questo punto, come minimo Spacca, si dovrebbe dimettere da presidente della regione Marche e con lui l'intera giunta, ha detto Danna. Di tutt'altro tenore invece le considerazioni politiche di un altro consigliere regionale fanese, il capogruppo di nuovo centrodestra Mirko Carloni. Riceviamo, ha detto Carloni, la notizia della candidatura di Gian Mario Spacca con grande entusiasmo e siamo pronti a costruire insieme la proposta politica che guardi ai bisogni dei marchigiani. È il partito dei terzi mandati, questo è il progetto di Marche 2020. Spacca e Solazzi sono come scilipoti e razzi, tradiscono il popolo del centrosinistra per mantenere la poltrona e i privilegi. Ha tuonato il candidato del PD Luca Ceriscioli e a stretto giro di posta ha risposto Gian Mario Spacca che ha detto no, non mi dimetto. Oggi a Fano è stata inaugurata la nuova sede dell'associazione AT Davide De Marini. Fano possa essere orgoglioso al punto di darci, continuare a darci una mano e di essere sempre più vicini a questa associazione perché la possibilità di aiutare il professor Magnani anche come ricerca e anche come finanziamenti ci sia sempre possibile per poter avere la speranza di migliorare i risultati al punto di poter avere sempre migliori risultati per salvare queste creature innocenti per poter garantire il diritto alla vita. Sono molto contenta degli studi che sta facendo seguendo questo professor Magnani, studi molto importanti su questa malattia molto rara. Come ente pubblico siamo anche contenti di questa collaborazione e abbiamo potuto risolvere anche il problema della sede che ci teneva tanto il signor De Marini. E domani la città di Fano ricorda il 32esimo anniversario della morte del marò fanese Filippo Montesi. A San Costanzo verrà celebrata una messa in suffragio appunto di questo nostro marinaio che è stato il primo militare morto dopo la seconda guerra mondiale. Noi come associazione siamo sempre presenti con il nostro labaro e poi faremo una visita anche al cimitero perché Filippo Montesi è sepolto a San Costanzo. Successo pesarese per il film in dialetto fanese gli sbancati è stato come vedere un altro film, racconta Enri Secchiaroli, il regista dopo la proiezione pesarese di ieri sera al cinema Solaris. Decine di curiosi che nella serata appunto di venerdì hanno voluto assistere alla prima nel capoluogo di provincia del film che ha fatto ridere migliaia di fanesi. La replica è in programma anche domenica 22 marzo alle ore 21 al cinema Loreto e lo staff tecnico e artistico è ansioso, si legge in una nota di raccogliere l'entusiasmo piovuto ieri sera nella sala del Solaris. Domenica 22 marzo alle ore 18 nella chiesa del gonfalone di Saltara si chiude la sedicesima edizione della rassegna Giovani Concertisti organizzata dal comune di Saltara, assessorato alla cultura e alle politiche giovanili. Banda musicando, proloco di Saltara, parrocchia di San Giovanni a posto e l'associazione delle arti. L'ingresso è libero, dopo il concerto rinfresco offerto da Terre del Metauro e Palazzina Sabatelli. Chiudiamo con lo sport per dirvi soltanto che domani l'Alma Juventus Fano giocherà in trasferta in quella di Civitanova inizio alle 14.30. In differita invece per tutti coloro che vorranno seguirla qui sul canale 17 di Fano TV, dopo il Tg di lunedì alle 20.30 la telecronaca, la differita con la telecronaca di Sergio Catalani. È tutto, grazie per averci seguito, buon fine settimana a tutti.